Tutti parlano del 5G, la prossima rivoluzione nel campo delle telecomunicazioni, quello che sarà il successore del 4G, pensate, su carta 100 volte più veloce del suo attuale competitor, appunto il 4G, e questo non solo 100 volte più veloce, ma anche con una latenza estremamente più bassa. Una latenza più bassa, ragazzi, nello scambio dati e quindi nella comunicazione dei dati significa un aumento di prestazioni notevole, impressionante per quanto riguarda il 5G, per tutti i prodotti e i servizi che utilizzano Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, per esempio le driverless cars, le macchine che si guidano da solo, tutta la parte di Robotics. Insomma, oggi voglio parlarvi di questa grande rivoluzione. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video. Ragazzi, questo sarà il primo di probabilmente una serie di video che farò dedicati a questo argomento, perché non è che con un video andremo ad esaurire l'argomento. E oggi voglio parlarvi di alcune ETF e alcune aziende da avere sotto il radar. Quindi, sotto il radar vuol dire che nel momento in cui le andate a studiare e andate a capire che le volete aggiungere all'interno del vostro portafoglio, aspettando una esplosione nel momento in cui il 5G sarà effettivamente utilizzato. E considerate, ragazzi, guardate questo grafico qua per farvi capire quanti spazi di crescita. Qui parliamo di milioni di unità vendute. Nel 2020 sono previste 11 milioni di unità. Nel 2021 si moltiplica per 7 questo valore e passiamo a 77, guardate qua, nel 2025. Quindi è un po' un long shot, come dicono gli americani, una long bet quella sul 5G. Ma, come al solito, se si vogliono fare grandi guadagni, bisogna entrare quando il mercato è ancora in fase embrionale. E questa è effettivamente la fase del 5G. Poi c'è la grande guerra tra l'America e la Cina. Quindi, insomma, le considerazioni da fare sono tante. Cominciamo dagli ETF. Gli ETF per molti sono la soluzione più veloce per investire. Gli ETF, come sapete, sono un basket, un contenitore, al cui interno ci sono varie aziende pesate, che rappresentano quindi l'andamento, specchiano l'andamento non di un'azienda sola. Quindi sono diversificati già come asset e possono rappresentare una forma di investimento diversificato, meno rischioso rispetto al comprare la singola azione. Parlando di ETF, ragazzi, ci sono due o tre ETF di cui voglio parlarvi. Uno è quello che vedete qua nel grafico, ovvero il classico ETF che riguarda il mondo delle telecomunicazioni, e questo è XLC. Interessante guardare il grafico di dove si trova adesso XLC, perché guardate, c'è questa grande struttura di prezzo, qui, poco prima dei 52 dollari, diciamo intorno ai 51 e 50 dollari, dove il prezzo per una, due, tre, quattro volte, tre volte è stato respinto in queste tre occasioni qua. Ci troviamo di nuovo in prossimità di questa struttura, quindi qua molta attenzione a che cosa succederà. Considerate che i massimi storici stanno poco più dietro e si trovano proprio sui 52 dollari. Quindi questo è il primo ETF, il più classico, il più utilizzato. Guardate qua che discesa che ha fatto a dicembre del 2018, per poi rimbalzare come tutto l'azionario e riportarsi dai 38-39 dollari fino ai 51 e 28 di oggi. Primo ETF, quindi XLC. Come al solito, ragazzi, se volete andare a vedere la composizione di questi ETF, basta che andare su questo sito, etf.com, ma ce ne sono altri come questo, andate a cliccare, o meglio, andare a cercare il nome, e vi si apre la scheda di questo ETF, l'ETF del SPDR Fund, fa parte del Communication Services, e qui, in questo sito, andate a vedere com'è pesato. Ve lo andate a vedere un po' sotto. Innanzitutto capite che tutti quanti gli investimenti o le aziende che fanno parte sono nel comparto americano, ok? Quindi non è diversificato dal punto di vista del paese. E poi qui sotto abbiamo i settori, vedete che Internet Services pesa il 54%, Broadcasting, che è quello che ci interessa insieme a quello sotto e a quello ancora sotto, ovvero Broadcasting, Wireless Telecommunication, Integrated Telecommunication, pesano il 27% e il 33%. Quindi insieme a Internet Services sono la parte più grande del portafoglio, ma poi qui avete anche le Top 10 Holdings, quindi le 10 aziende più grande che fanno parte di questo ETF. Abbiamo al primo posto Facebook, che pesa il 18,55%, e poi abbiamo le Alphabet, classe C e classe A, Google, e Charter Communication, AT&T, Walt Disney, Netflix, Verizon, Activision, Blizzard, quindi anche nel gaming, 4,34%, Comcast, e così via. Quindi diciamo che queste 10 aziende coprono, pesano il 74,22%, quindi questo discorso lo potete fare per tutti gli ETF che andremo a guardare qua. Voglio farvi vedere anche un altro ETF molto utilizzato, XTL, diciamo che questi due non vi direi che non li avrei entrambi a portafoglio, ne sceglierei sicuramente uno, vedete che l'andamento è estremamente diverso, e questo lo andate a capire se di nuovo qua su questo sito mettete XTL e andate a vedere qual è XTL e andate a vedere com'è composto l'ETF appunto. Scendiamo qua, siamo sempre sul settore americano 100%, però vedete che qua pesano di più, non ci sono gli Internet Services nelle prime top 3, ma il 50% è rappresentato dalle communication, wireless telecommunication il 25%, integrated telecommunication il 18% e poi ci sono gli IT Services e consulting il 5,24%, quindi composizione diversa che ha sofferto di più, guardate qua le top 10 holdings, quindi abbiamo Ubiquiti, abbiamo Comscope Holding, CenturyLink, abbiamo Lumentum, abbiamo Juniper, abbiamo Viavi, GCI, abbiamo F5, Interdigital, Ecostar, vedete aziende completamente diverse, alcune di queste probabilmente nemmeno le avrete sentite, sono tutte quante, questa è una cosa da notare, posizioni che pesano poco, infatti considerate che la top 10 delle holdings pesa solo il 35,63%, qui se cliccate potete vederle tutte quante e quindi avere una visione più completa di quello che c'è dentro, ma vedete che è veramente molto diversificato con le aziende, sono tutte quante posizioni molto piccole dal punto di vista della holding allocation. Ok, e questo era un ETF, un secondo ETF diverso ma di cui volevo parlare, voglio parlarvi di un ETF che fa parte del mercato cinese, CHIC, C-H-I-C. Allora, non se la passa benissimo, vedete siamo in fase estremamente ribassista, qua il prezzo è sceso, ha avuto un ritracciamento di poco sopra la media 200 periodi, ma ha usato il livello 29 dollari per scendere ancora, poi ha usato come resistenza la media 200 periodi, anche qua, e vedete che il prezzo adesso sta a formato questo triangolo simmetrico, siamo in una fase sicuramente ribassista, considerate che qua eravamo nel 2018 a giugno a 32,50 dollari, diciamo che è la risposta del DXLC al mercato americano, perché questo è un mercato esclusivamente cinese, adesso lo vedete, se me lo carica, eccolo qui, un secondo solo, allora, vi faccio vedere che, vedete, Cina, Hong Kong, pesano praticamente il 96%, il 3.55% è l'America, e qui ci sono aziende come Baidu, la Tencent Holdings, che insieme a Alibaba sono le tre aziende più grandi a maggiore capitalizzazione in Cina, Cina Mobile Limited, NetEase, Weibo Corporation, Momo e così via, China Unicorn anche per il 3%, quindi, vedete, completamente diverso dall'altro, però potrebbe essere interessante, ragazzi, la Cina è un po' il precursore del 5G, c'è questa grande lotta, guerra tra chi arriverà prima e chi farà meglio tra America e Cina, quindi, tenetela d'occhio, e tenetela d'occhio anche con questo ETF qua. Ultimo ETF che volevo farvi vedere, SNSR, è l'ETF dell'Internet of Things, quindi un altro mercato molto interessante, che potrebbe beneficiare molto del 5G, proprio per il discorso che vi facevo prima, 100 volte più veloce del 4G, latenza low latency, latenza bassissima, e vedete che qua il grafico del prezzo non è che se la sta passando proprio male, dopo questa flessione che c'è stata, fisiologica su tutti i mercati nel fine 2018, vedete che il mercato si è ripreso, è andata a creare qui questo doppio minimo, dopodiché è stata rotta la neckline del doppio minimo, il prezzo è tornato, è andata a rimbalzare sulla media 200 periodi, primo impulso, che ha appena rotto i massimi precedenti, piccolo ritacciamento e grande, secondo impulso, il prezzo è arrivato a 22, attualmente dollari e 63, considerate che meno di un anno fa stavamo a 15 dollari, quindi insomma parliamo già di una crescita in un anno, per chi fosse entrato lì in basso, del 50%, e questo ETF mi interessa, soprattutto per le aziende che contiene, vi dico la verità, ve lo voglio andare a far vedere, il SNSR, eccolo qua, GlobalX Internet of Things ETF, perché ci sono, c'è la Garmin dentro, c'è ADT, c'è la Cypress Semiconductor, c'è Cisco dentro a questo ETF, adesso guardate ve lo faccio vedere, vedete che è diversificato questo, anche dal punto di vista dei paesi, è vero che l'America pesa il 70%, ma abbiamo quasi il 10% della Francia, il 6,97% della Svizzera, Taiwan 6,96%, Hong Kong 1,72%, Giappone 1,68%, che poi abbiamo addirittura lo 0,63% dall'Italia, e così via, qui sotto vedete gli settori, Technology, Industrials, Healthcare, Telecommunication, Consumer Cycles, Cyclicals, e queste sono le aziende, vedete 7% STMI Electronics, Skyworks Solution, azienda molto molto interessante, che appunto può avere enormi benefici dal 5G, Dexcom, Garmin, Limited, come vi dicevo, Sensata Technologies, Cypress, Semiconductors, questa è un'altra azienda da tenere sott'occhio, perché produce materiale per creare chip, ABT, altra azienda molto interessante, quindi diciamo, questo ETF mi interessa molto per le aziende che ha nel portafoglio, sta andando molto bene, ma qui se vado a, torno un po' indietro, vedete che c'è questo massimo qua, intorno ai 21, 21,50%, dove il prezzo potrebbe a un certo punto tornare per usarlo come supporto, adesso siamo a 22,63 dollari, e anche qui ci sono potenziali grandi spazi di crescita, soprattutto quando il 5G arriverà dove potrebbe arrivare. Ragazzi, vi direi che questo primo video sul 5G lo chiudo qui, quindi ho parlato degli ETF, nel prossimo parlerò di aziende, di azioni individuali, singole, e per ora che dirvi, lasciatemi qui sotto un commento per dirmi come la pensate voi di questo mercato, se ci sono altri ETF che avete sotto il vostro radar, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta pubblico un nuovo video, ragazzi, grazie mille per l'attenzione, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Ciao!